L'Europa guarda le piccole e medie imprese con il progetto Horizon 2020 che offre nuove opportunità per la ricerca e l'innovazione di processo e di prodotto. Una gamma di finanziamenti dei quali si è discusso nell'incontro organizzato dalla CNA Abruzzo a Pescara con l'europarlamentare del Partito Democratico Andrea Cuzzolino, vicepresidente della Commissione Parlamentare e Sviluppo Regionale. Più di 80 miliardi di investimenti a livello europeo che ovviamente noi dobbiamo saper cogliere e quindi stiamo facendo un'opera di informazione, di conoscenza, anche di formazione per poter consentire alle nostre imprese di partecipare a questi bandi perché sono rivolti soprattutto a piccole e medie imprese. Quindi il nostro territorio è fatto di piccole e medie imprese, questa è un'occasione importante, è la prima volta che l'Europa si rivolge direttamente a questi settori economici e quindi per noi è molto importante aiutare queste imprese a partecipare e ad essere selezionati positivamente dall'Europa. La cosa più importante per questo ringrazio della CNA regionale è che noi dobbiamo lavorare adesso insieme alla Regione perché ci sia una relazione molto stretta tra gli aiuti diretti che l'Europa dà attraverso questi bandi e le politiche regionali. L'incontro è stato un focus group aperto e si è posto l'obiettivo di fornire una prospettiva tecnico-pratica per la crescita delle PMI troppo spesso ignare e impreparate rispetto alle procedure europee per l'accesso ai fondi messi a disposizione. Ho visto quali sono i tagli degli investimenti, partono da 500 mila euro fino a 2 milioni e mezzo di euro e devo dire che il taglio più piccolo è un po' sovradimensionato a quelle che sono le possibilità economiche da parte delle piccole aziende. Ciò che è importante è non solo il finanziamento, tutta la parte economica, ma è la parte progettuale. Avere a disposizione degli strumenti per portare degli input, per innovarsi, per fare internazionalizzazione, fare marketing, innovazioni di processi, innovazioni tecnologiche, insomma sono cose importanti, investimenti che bisogna assolutamente fare.